Bella rega, sono Andrea. Benvenuti in questo nuovo episodio del confessionale, appuntamento settimanale delle due di notte, dove vi di solito confesso le mie cose, però stasera volevo utilizzare questo spazio per parlare d'altro, insomma per farvi delle mie riflessioni personali. Prima però vorrei come sempre sponsorizzarmi un po', ho aperto un nuovo canale, che attualmente è fermo in quanto lo utilizzerò se e quando su questo canale arriverò a 5.000 iscritti, tutti i video di Andrea saranno trasferiti su questo canale che si chiama Andreino Roma e vedrete passare qui sopra il pallino, ma lo troverete anche nell'info box. Inoltre vi invito a seguirmi sui miei social, oltre che ovviamente alla pagina di Manola Facebook che è Manola Malasanta, ma anche sui miei social, Andreino Roma, l'account Facebook privato e Instagram Andreino Roma e gli altri non mi ricordo, comunque li trovate tutti nell'info box. Bene, voi sapete che comunque questo video settimanale non lo monto, lo giro così a cazzo e quindi è tutto nature. Allora ragazzi, voi sapete che io comunque non amo parlare degli altri youtubers, è una cosa proprio che non mi piace acchiappare visualizzazioni parlando di altri, però mi andava di discutere di questa cosa ma non per acchiappare visualizzazioni ma semplicemente per dire la mia. Tre settimane fa circa è uscito fuori un nuovo canale che si chiama YouTube fa cagare e tipo da due giorni a me arrivano continuamente video consigliari da YouTube di questo canale e oggi ho deciso di aprire uno di questi video. Praticamente è il canale di un ragazzo che parla esclusivamente di altri youtubers e fino a qui ci può stare, cioè non perché io non lo voglio fare vuol dire che sia una cosa sbagliata, ognuno fa quello che vuole, se vuole comunque parlare, criticare e come fa lui senza insultare perché molta gente gli dà addosso dicendo che insulta ma in realtà non insulta, dice semplicemente la sua e condivido molte cose che dice. Però quello che a me non piace è innanzitutto utilizzare i contenuti altrui, cioè lui fa vedere spezzoni di altri video e li commenta, in modo negativo ovviamente comunque li percura, li prende per il culo. Ecco questa è una cosa che non tolgo perché comunque alla fine anch'io faccio nove video a settimana. Ora a parte questo che lo giro e lo carico direttamente, gli altri comunque li giro, li monto e li carico, ma ci sono ore passate dietro e se comunque qualcuno dovesse andare a scaricare un mio video e caricarlo sul suo canale, poi monetizzarlo, quindi farci anche dei soldi, a me la cosa sarebbe molto al cazzo. Cioè anche chi fa le tra virgolette parodie che scarica video altrui e poi li commenta chiamandoli e poi spacciandoli per parodie, ma in realtà le parodie non sono quelle. È una cosa che mi dà molto al cazzo, mi dà molto fastidio perché comunque sono contenuti altrui e poi oltretutto non è legale, forse non so se è illegale, però sicuramente non è concesso scaricare i video altrui. Cioè YouTube non ha questa funzione, bisogna utilizzare siti o applicazioni esterne e comunque il regolamento di YouTube in teoria vieterebbe queste cose e non capisco come si possa monetizzare sui video altrui. Quindi questa è una cosa che io non condivido. Per il resto comunque alla fine non fa niente di male questo ragazzo, semplicemente sparla e fa gossip di altre persone. Ma la cosa che sta facendo parlare tantissime persone è che questo canale sta crescendo in modo disumano, cioè in tre settimane ha superato i 100.000 iscritti e fa un botto di visualizzazioni. Questo da quando ha fatto un video contro scherzi di coppia e scherzi di coppia ha risposto a questo tizio. Da allora il canale ha cominciato a crescere disumanamente, ma della serie che comunque sono andato a vedere anche oggi, ci sono dei siti che ti fanno vedere in tempo reale le iscrizioni e le visualizzazioni di un sito. Cioè lui fa tipo due iscritti al secondo. È una cosa disumana, ma neanche Gemma del Sud ha fatto tutti questi iscritti in così poco tempo. E secondo me è il primo youtuber italiano che è cresciuto e sta crescendo in modo così disumano. Questo perché? Perché comunque fa gossip, parla male di altre persone. Però queste sono le mie supposizioni, non voglio assolutamente dire che è così. Cioè questo è quello che penso. Secondo me potrebbe anche essere una cosa studiata a tavolino, nel senso si sa che esistono le agenzie, si sa che molti youtubers, anche se non lo dicono, sono gestiti da agenzie, quindi è tutto studiata a tavolino, ma anche le collaborazioni, come ad esempio in questo caso potrebbe, e sottolineo potrebbe, essere che ad esempio l'agenzia ha contattato scherzi di coppia e ha detto guarda facciamo questa cosa, voi rispondete e così aumentiamo il tutto, aumentiamo le visite, aumentiamo gli iscritti. E da allora comunque ha iniziato a crescere in modo disumano. Quindi potrebbe anche essere così, dato che comunque le agenzie sono uscite fuori dopo il fenomeno Wilwush che è cresciuto anche lui tantissimo, da allora comunque queste agenzie hanno capito che dietro YouTube c'è un business, ma chi è che non fa video per far soldi? Nel senso, se attivi la partnership vuol dire che vuoi guadagnare e io sono il primo, non lo nascondo, l'ho sempre detto nei miei video. E non ho neanche nulla da ridire sulle agenzie, per carità, cioè è un lavoro come gli altri. Però, cioè, alla fine, secondo me sta crescendo in modo troppo, troppo, troppo disumano. Cioè, adesso sta a 109 mila iscritti, tipo oggi, poveri, già sta a 85 mila, una cosa del genere, sta crescendo proprio in un modo disumano. E potrebbe anche esserci lo zampino di un'agenzia, e quindi tutto studio da tavolino. Anche perché poi non è che sono video di qualità, ecco questo non voglio dire che i miei video sono video di qualità, perché io sono una schiappa a montare video, cioè ho imparato tutto da solo. Però comunque questo fa video dove fa vedere gameplay e poi spezzoni di altri video che va a commentare. Quindi, cioè, alla fine, se vuoi fare soldi, vuoi comunque, cioè, mi sto, zitto, mi sto inceppando, però alla fine, se vuoi fare delle cose, falle con i tuoi contenuti, non le fare con i contenuti degli altri, perché è sbagliato così. Cioè, stai facendo comunque dei soldi sulle spalle degli altri, e secondo me è sbagliato, perché comunque, come dicevo io, anche io che faccio 9 video a settimana, ma ci perdo un sacco di ore a settimana nel farli. Comunque sto crescendo piano, piano, lentamente, ma con le mie forze, non parlando di altri. E sì, in questo video sto parlando di un altro, ma ripeto, veramente non è né per fare visualizzazioni né per attirare iscritti. Semplicemente voglio dire la mia, perché comunque in questa rubrica parlo sempre di cose, di pensieri miei o di confessioni miei. Altra cosa che potrebbe essere, ma ripeto sempre potrebbe, ragazzi, non è che quello che dico io è così, perché non lo sapremo mai, però questa persona potrebbe anche essersi comprato iscritti e visualizzazioni per far vedere che comunque fa video di qualità e comunque è seguito. Poi quando comunque una persona o delle persone vedono che un canale cresce in una maniera così disumana, fa tante visualizzazioni, automaticamente si scrive, automaticamente. Poi mettici pure che comunque fa gossip, ha la gente le chiacchiere, le polemiche, gli piacciono tanto. Quindi questo era quel mio pensiero. Cioè, secondo voi cosa ne pensate voi? Cioè, comunque c'è chi come me e come tantissimi altri youtubers che comunque si fanno il culo per crescere, per farsi conoscere, per creare comunque dei contenuti piacevoli o tra virgolette di qualità e poi arrivano comunque questi personaggi che in tre settimane con contenuti altrui e parlando di altre persone raggiungono queste cifre esorbitanti. Poi secondo me non è giusto, cioè non è giusto, ma non perché stia rosicando del fatto che questo stia crescendo così, perché io mi guardo sempre il mio, me degli altri non me ne frega niente. Volevo semplicemente condividere questo pensiero con voi e sapere voi cosa ne pensate. Direi che comunque ho detto tutto quello che dovevo dirvi e sinceramente non sto facendo questo video né per attirare la sua attenzione, né per... anzi, ma non mi risponde proprio, non me caga, guarda, non me ne frega proprio niente, sinceramente. Voglio condividere questo pensiero con i miei iscritti e sapere cosa ne pensano i miei iscritti. Vi metto comunque il link di questo canale nell'info box, ve lo faccio passare anche sul pallino qui sopra, non andare ad insultarlo ragazzi perché non è questo quello che voglio, insomma. Anche lui comunque lo dice sempre nei suoi video, non andare ad insultare le persone di cui parlo perché comunque è sbagliato, lui è il primo a non insultare e non è giusto comunque stare ad insultare una persona da room monitor, ma neanche dal vivo, quindi evitate. Però andateci a dare un occhio e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ragazzi, io per il momento vi saluto, ci vediamo domani alle 14 con un video della Queer of Trash Manola e con me ci vediamo giovedì alle 16 con un nuovo... con una nuova rubrica. Non mi anticipo nulla, ci sarà comunque il primo episodio di una nuova rubrica. Bella raga, buona giornata!